Si sta creando un mostro, noi siamo contrari a questo tipo di iniziative di liberalizzazioni piene perché poi bisogna sempre capire chi fa funzionare la macchina. Di solito le persone che vanno nei centri commerciali non si rendono conto che la macchina può funzionare solo attraverso delle persone che lavorano come chi va nei centri commerciali e queste persone, la maggior parte, vanno a lavorare in queste giornate qui. Negozi aperti il giorno di Natale? Il sindacato dice un no assoluto e sta portando avanti una dura battaglia in merito. Anche se il 25 dicembre pure a Padova diversi esercizi commerciali non chiuderanno. Cristian Vicoletti della segreteria Filcams CGL non usa mezzi termini sulla questione che lo vede completamente in disaccordo perché dice aprire a Natale non servirà a incrementare il fatturato o uscire da questo difficile periodo di crisi. Non creerà alcun niente tranne quello di in qualche maniera lasciare aperto il centro commerciale per poter essere aperto e fare concorrenza con gli altri. Quindi è un loop, se così posso dirlo, che da qui non se ne viene fuori. Io credo che sia proprio un'educazione alle persone ormai. Loro stanno, da questo punto di vista qui, a mio parere, educando le persone a fare gli acquisti in tutti i giorni dell'anno o in tutti i giorni della settimana, mattina, pomeriggio e sera.